Ci sono molte case per anziani in questa città, non capire questo vuol dire essere un po' fuori dal mondo. Dopodiché le RSA sono poche, sono costosissime e il fatto che i nostri genitori, i nostri nonni vivano di più è un valore fondamentale ma non è un motivo per inginocchiare le famiglie. Dal Comune di Arezzo arriva così la proposta di modifica della legge regionale 41-2015, quella relativa alla non autosufficienza in merito alle case per anziani. È una legge perfetta da un punto di vista teorico, è una legge disgraziata dal punto di vista pratico perché di fatto divide il mondo in autosufficienti e non autosufficienti, considerando l'autosufficienza come se fosse un mondo monolitico. Noi proponiamo, il Comune di Arezzo propone una piccola modifica, cioè di permettere alle case per anziani che hanno personale qualificato, che hanno condizioni comunque di tutela vera degli anziani e di poter ospitare anche anziani che hanno un'isogravità oltre il 2, quindi dal 3 in su e una non autosufficienza oltre il 66%, perché ci possono essere un'autosufficienza con questi parametri che possono e anzi forse debbono stare in contesti meno sanitarizzati e più aggregativi. Una proposta che ha già accolto il favore di Italia Viva. Mi auguro che il PD su questo apra le orecchie e apra gli occhi, ha anche vicini, diciamo così, di maggioranza che lo sottolineano. Abbiamo bisogno di un tratto di penna, ci vuole veramente poco, non farlo è un elemento veramente di assurdità.